Grazie a tutti. Per il ripristino della tratta ferroviaria Sassari-Alghero invece se ne riparla a maggio, via libera le risorse per eseguire i lavori che dovrebbero partire il prossimo mese. Prenderanno avvio dal 4 febbraio i lavori per la vagliatura della Posidonia San Giovanni, lavori che porteranno alla definitiva chiusura dei siti di stoccaggio, fanno sapere dal comune Forza Italia, Attacca, Bruno e Selva, fermi agli annunci. Ben trovati, un nuovo appuntamento con l'informazione locale su Catalan TV. Un pediatra provvisorio assunto per 12 mesi per risolvere temporaneamente l'emergenza nel distretto del Lighero, creatosi dopo che due medici specialisti sono andati in pensione senza essere sostituiti. Pubblicato dall'ATS l'avviso per l'affidamento dell'incarico, il consigliere regionale Raimondo Cacciotto si dice moderatamente soddisfatto, molto meno il collega Marco Tedde che dice che un problema di questa gravità non si risolve con un pannicello caldo del sapore elettorale. Il comitato aziendale dell'area sociosanitaria di Sassari ha bandito l'avviso per l'affidamento di un incarico provvisorio di pediatria di libera scelta nel distretto di Lighero. I medici interessati potranno presentare domanda entro il 4 febbraio, una mossa, quella dell'ATS, che arriva dopo settimane all'insegna di polemiche, soprattutto proteste e manifestazioni di genitori, soprattutto mamme. Speriamo che in tempi brevi possa essere risolto il problema, l'incarico sarà di un anno, nel mentre è necessario lavorare perché si arrivi a una risoluzione piena del problema, non afferma il consigliere regionale Raimondo Cacciotto, secondo il quale il comitato aziendale di Sassari e il direttore generale Fulvio Moirano hanno rispettato gli impegni presi con le istituzioni del territorio e con il termine giovedì nel tavolo del comitato regionale. Sul via libera della regione continueremo a sollecitare e vigilare affinché questo problema venga risolto. Va bene, la soluzione è provvisoria, ma ci attendiamo una risoluzione definitiva che si concretizzi con un incarico definitivo di titolarità, conclude Cacciotto. Meno soddisfatto l'altro consigliere regionale del territorio, il forzista Marco Tedde, un problema di questa gravità non si risolve con un pannicello caldo dal sapore elettorale, sostiene l'ex sindaco. Da dicembre le mamme di Alghero e Almedo attendono la convocazione del comitato regionale che dovrà decidere sulla sostituzione dei pediatri andati in pensione e che si riunirà solo giovedì, ovvero domani. Un ritardo inaccettabile, denuncia Tedde, dovuto anche al fatto che l'assessore Arru è candidato nella lista del PD di Nuoro ed è in piena campagna elettorale. Secondo il consigliere regionale Azzurro, continua ad essere negato ai bambini di Alghero e Almedo il diritto alla salute costituzionalmente garantito. Tedde insiste sul fatto che non è pensabile che i pediatri andati in pensione non vengano sostituiti e che non è accettabile che i bambini di Alghero e Almedo vengano trattati come bambini di serie B. Ora teniamo la riunione del comitato regionale auspicando che l'assessore Arru sospenda la sua campagna elettorale e non faccia mancare il suo supporto e che venga assunta una decisione coerente con la necessaria tutela della salute dei bambini del territorio, conclude Tedde. Vedremo domani cosa verrà fuori dalla riunione del comitato. Adesso parliamo di un altro problema però rimasto sostanzialmente irrisolto, cioè il ripristino del collegamento ferroviario Sassari-Alghero. Se ne riparla a maggio perché soltanto allora dovrebbero essere conclusi i lavori. Intanto quasi 32 milioni per modernizzare la tratta. Approvata dalla giunta a superposta dell'assessore ai trasporti Carlo Caredu la convenzione tra regione e ministero delle infrastrutture per l'adeguamento agli standard tecnologici di sicurezza della tratta ferroviaria a scartamento ridotto, Alghero, Sassari, Sorso e per l'installazione di relativi impianti di bordo. Le risorse totali stanziate e disponibili sono 31,63 milioni di euro e il soggetto attuatore o stazione appaltante è l'AST. Due gli interventi principali previsti dalla convenzione. Il primo è finanziato con 23,73 milioni e prevede l'appalto per la progettazione esecutiva e la costruzione dei sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazioni di linea da realizzarsi con apparati centrali computerizzati e multistazione a logica integrata. Il secondo intervento da 7,9 milioni riguarda l'appalto per la progettazione esecutiva e la costruzione o installazione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza a bordo dei treni in esercizio sulla rete ferroviaria ARST di trasporto pubblico locale. Nel frattempo procedono le attività per la riapertura della tratta a scartamento ridotto, Sassari e Alghero effettuate dall'ARST. Completati tutti i progetti, sono ora in corso di pubblicazione le gare d'appalto per la giudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle travate metalliche. Entro il mese di febbraio è prevista l'aggiudicazione e dentro maggio la conclusione dell'intervento. La manutenzione sull'armamento è stata invece già giudicata e la fine dei lavori è prevista per il mese di marzo. Sempre entro maggio, infine, saranno sostituiti i cablaggi e, se necessario, i cavidotti del sistema di segnalamento. Allora, non resta che attendere. Torniamo anche sulla questione Posidonia perché dal Comune fanno sapere che prenderanno via dal 4 febbraio le operazioni di accantinamento a San Giovanni ad opera della Verdevita, la dieta di Porta Torres che si occuperà della vagliatura della Posidonia con la caratterizzazione della sabbia dei siti di stoccaggio realizzati dal 2007 sul litorale di Alghero. Spiegano sempre dal Comune che la bonifica riguarderà anche il sito di Punta Negra. Sulla questione però interviene anche Forza Italia che, rivolgendosi al sindaco Bruno, scrivono gli algheresi, non hanno l'anello al naso. 800 mila euro circa il finanziamento dedicato all'intervento e finalizzato a ripristino delle condizioni ambientali ottimali eliminando definitivamente i disagi causati sia ai cittadini residenti che ai turisti per la mancata fruibilità delle aree interessate dai cumuli di Posidonia ammassata. Lavori che porteranno alla definitiva chiusura dei siti realizzati in passato sul litorale, spiegano dal Comune. Lo prevede la delibera di giunta, approvata nei giorni scorsi a Portaterra, a partire dalla stagione balneare 2019. Infatti rimarrà operativo soltanto il sito di stoccaggio temporaneo e località Cuguttu, fanno sapere una zona più riservata presso una porzione di terreno pubblico a Maria Pia, oltre la strada litoranea che collega a Fertilia. Sito che accoglierà esclusivamente il materiale vegetale asportato dalle spiagge durante la stagione balneare. L'intervento vede il coinvolgimento attivo dei massimi esperti in materia, la collaborazione delle associazioni imprenditoriali e la garanzia di risorse economiche adeguate. In quest'ottica rientra il protocollo d'intesa in discussione con Confcommercio, Federalberghi e gli operatori balneari, teso all'attuazione di un piano operativo specifico, con l'individuazione di una serie di azioni sinergiche ed efficaci, di pulizia dei litorali di Alghero e di gestione della posidonia spiaggiata, a beneficio di tutti i fruttori delle spiagge, dell'intero comparto economico e turistico del territorio. I dettagli del piano fanno sapere ancora dal Comune, che sarà operativo e presentato alla città nelle prossime settimane. Sono stati messi a punto nel corso di una partecipata riunione svoltasi a Portaterra ieri mattina, alla presenza del Sindaco Bruno, dell'Assessore all'Ambiente e dei tecnici degli uffici competenti, ma anche del Presidente Territoriale Confcommercio Massimo Cadeddu, di Stefano Visconti di Federalberghi, del Presidente Sib Confcommercio Provinciale Fabio Fois e da una forte rappresentanza di operatori balneari locali. E su quest'ultima comunicazione del Comune rispetto alla questione posidonia interviene Forza Italia. Siamo alle solite, scrivono, esplode un problema ovviamente risolto da parte di Bruno e lui una volta annunciate un paio di azioni si inventa uno straordinario successo. Ma caro Sindaco, proseguono da Forza Italia, gli algheresi non hanno l'anello al naso, sanno benissimo che lei in maniera diretta e indiretta governa Alghero dal 2012, il periodo più buio per la città e per i suoi abitanti e ora, con un paio di colpi di teatro, vuole recuperare terreno con la sua oramai stantia propaganda. Se non fosse stato per alcuni testardi balneari e cittadini, uniti nell'attività resa nota come spiagge pulite, che domenica è sfociata nell'iniziativa di raccolta dei rifiuti del litorale, spiegano da Forza Italia, lei delle spiagge se ne sarebbe grandemente fregato, come del resto ha dimostrato nei suoi cinque anni, da Sindaco caratterizzati da attenzioni per piante pioniere e di spiagge sporche ricoperte di poseidonia, eppure rifiuti fino a luglio inoltrato. Adesso, ad un paio di mesi dalla fine della sua nefasta esperienza amministrativa, come suo solito occupa la scena per oscurare l'impegno della categoria e nascondere quasi due lustri di fallimenti, compresa la disarmante vagliatura di Cuguttu, con la spiaggia divenuta marrone e tanti altri errori e ritardi che hanno inficiato le ultime stagioni balneari chiudono da Forza Italia. Ci fermiamo adesso per una prima pausa. La politica è in apertura di seconda parte perché la campagna elettorale per le regionali entra nel vivo. In questi giorni sono stati presentati i candidati di vari schieramenti. I riformatori l'hanno fatto lunedì a Sassari, nel palazzo della provincia. Con loro Cristian Solinas, la sua prima uscita nel nord Sardegna da candidato governatore. A dirigere e introdurre i lavori, Vincenzo Corrias, segretario organizzativo del partito, che ha esposto un resoconto dell'attività dei riformatori e delle battaglie che maggiormente li caratterizzano, quali le accise, la sanità e l'insularità. E' seguita la presentazione dei candidati, a cominciare dalle donne, con Irene Brigas, impenditice di Alghero. Tra gli uomini un altro algherese, Alberto Zanetti, medico dentista ed ex consigliere comunale, ora coordinatore cittadino dei riformatori, ma anche l'ormedese Fabio Pala. E' seguito l'appello al voto di Pietrino Fois, coordinatore regionale del partito, che ha ricordato a tutti come solo i riformatori, negli ultimi anni si siano spesi per portare avanti i battagli a favore della Sardegna, come il riconoscimento della quota delle accise e dello stato di insularità. A chiudere i lavori in intervento più atteso, quello di Cristian Solinas, che come candidato governatore ha focalizzato l'attenzione sui punti essenziali del programma del centrodestra, promettendo il massimo impegno sui temi maggiormente cari ai riformatori. La presentazione della lista sassarese, della circoscrizione di Sassari, di autodeterminazione è avvenuta invece nei giorni scorsi a Villanova, a Monte Leone. C'era ovviamente il candidato presidente Andrea Murgia, l'argomento di partenza del dibattito, è stato quello legato allo spopolamento, tema fondamentale all'interno del programma di autodeterminazione. Per noi la soluzione è puntare sullo sviluppo rurale, politica, raccogliere, raccontare, ma anche realizzare. Il nostro progetto scritto a cento mani deve diventare quello della Sardegna e se non sarà questa volta, continueremo a battagliare in futuro, ha detto Murgia. Abbiamo messo passione e competenza, testa, gambe e cuore in Sardegna, perché raccontiamo la nostra terra con il cuore, ma dobbiamo averla nella testa. Dicono che il mondo indipendentista sia sempre diviso, noi abbiamo invece una lista unica che unisce sei sigle, un'aggregazione che prima non esisteva, allargheremo questo mondo, ha poi aggiunto il candidato governatore di autodeterminazione. Quindi c'è stata la presentazione dei vari candidati della circoscrizione di Sassari, tra questi anche l'algherese Natascia Lampis, ha partecipato al dibattito il sindaco di Villanova a Monteleone, Quirico Meloni, ha moderato Gianfranca Pirisi. La nomina del consigliere Mario Nonni ad Assessore alle manutenzioni, verde e viabilità dell'agro non può che farci piacere, chi più di lui sa quali sono le problematiche urgenti per la nostra comunità. Lo scrive in una nota la Presidente del Comitato Zonale NURRA, Tiziana Lai. Il neossessore ha infatti conoscenza completa e adeguata della grave assenza della segnalitica orizzontale e verticale negli incroci più pericolosi delle nostre strade, ma sa bene anche quanto è urgente la realizzazione degli stalli degli scuolabus presso le scuole di Santa Maria La Palma. Entrambe questioni importanti per l'incolumità pubblica e per il bene dei nostri bambini, che saprà sbrogliare nei meandri della burocrazia e dei conti economici comunali, scrive la Lai. Non si dimenticherà peraltro della gravità in cui versano ampi tratti di strade non asfaltate, totalmente prive di manutenzione, su cui transitano decine di residenti e di lavoratori di aziende che producono reddito per il nostro territorio. Lui è infatti uno dei consiglieri di maggioranza che maggiormente ha combattuto per l'acquisizione delle strade e della bonifica dalla Regione, togliendo peraltro il vincolo economico a carico dei cittadini, impegnandosi a trovare le risorse all'interno del bilancio comunale. Rendendoci disponibili ad affiancarlo per quello che riterrà necessario, ne ossessore, conclude la Presidente del Comitato Zonale Nurra, facciamo il nostro più sentito in bocca al lupo per il nuovo incarico. Riprenderanno nei locali del nido di infanzia comunale i laboratori di creatività, scoperta e gioco rivolti a bambini e genitori coordinati dalla dottoressa Annalisa Masala, esperta in metodologie e progettazioni di laboratori didattici secondo il metodo Munari. L'iniziativa, completamente gratuita, è offerta dal raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il nido di infanzia comunale, le cooperative sociali, Nuove Idee di Tula e Orsa di Bergamo, Consorzio Network Etico di Cagliari in collaborazione con il settore sesto per l'infanzia e per i giovani del Comune. Questi natali del centro per bambini e genitori sono i nuclei familiari con bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni e figure adulte di accompagnamento. Le attività di laboratorio avranno inizio invece sabato, quindi questo sabato, dalle 16.30 alle 18.30. Tutti gli interessati sono invitati a prendere informazioni presso il nido di infanzia chiamando al numero 079 97 99 70 ma il modulo di iscrizione è disponibile sempre presso il nido di infanzia oppure sul sito internet del Comune www.comune.alghero.ss.it e Alghero presenta le sue bellezze il suo patrimonio culturale la sua storia, le sue peculiarità in paese che va al programma di Rai 1 che racconta l'Italia come un grande museo diffuso da divulgare e promuovere e sta registrando una puntata interamente dedicata alla città le fortificazioni, l'ambiente, la storia le eccellenze del territorio il programma condotto da Livio Leonardi in onda la domenica alle 9.40 spiega la città declinandone i suoi aspetti più suggestivi ieri hanno avuto inizio le riprese nella zona del porto della puntata che andrà in onda nel prossimo mese di marzo per tutta la settimana la truppa realizzerà le immagini nei diversi luoghi caratteristici del centro storico e nel territorio parliamo ora di teatro in particolare della stagione di prosa firmata CEDAC al Teatro Civico di Alghero è previsto infatti un doppio appuntamento domani e venerdì alle 21 con l'operazione divertente commedia sulla mala sanità scritta e diretta da Stefano Reali interpretata da Antonio Catania e Nicola Svaporidis accanto a Giorgio Gobbi che sostituisce Maurizio Mattioli con la partecipazione straordinaria di Gabriella Silvestri e con Marco Giustini focus su un tema delicato e complesso come il funzionamento del sistema sanitario nazionale qui affidata la tutela della salute dei cittadini sullo sfondo della torre d'estate d'Italia 90 un semplice intervento quasi di routine si trasforma in un caffiano viaggio in corsia tra lungodegenti, medici e infermieri in un microcosmo che rispecchia la società tra vizi e virtù ci fermiamo adesso per un'altra piccola pausa ultima parte del nostro telegiornale dedicata allo sport sfuma l'accesso alla prima serie maschile per gli atleti del tennis club Alghero nel campionato regionale invernale 2018-2019 la squadra del tennis club Macomer infatti ha vinto 2-1 sui campi di Maria Pia dopo i singolari vinti rispettivamente per il tennis club Alghero da Michele Fois per 6-1-6-0 su Scintu e per Macomer da Albano contro Lorenzo Carboni per 5-7-6-4-7-5 con l'algherese che conduceva per 5-2 al terzo set salvo poi cedere si è disputato il doppio decisivo fra gli algheresi Michele Fois e Gabriele Paolini e gli avversari Scintu Albano la partita è stata molto equilibrata ma alla fine dopo circa due ore di gioco e con qualche rimpianto ha vinto la coppia Macomerese col punteggio di 7-6-5-7-10-4 peccato per la squadra del tennis club Alghero arrivata alla semifinale è ad un passo dalla promozione in prima serie un obiettivo sicuramente alla portata per la prossima stagione nella foto che avete visto proprio gli algheresi gli atleti algheresi Alessandro Pittalis e Lorenzo Carboni parliamo anche di pallavolo vittoria in casa per la web project sotto rete che ha battuto per 3-7-0 la ASD Mare Sport di Castelsardo nella terza giornata di campionato di prima divisione maschile fila tutto liscio per la formazione algherese che ha superato agevolmente in 3-7 la squadra di Castelsardo con i parziali di 25-9 25-11 e 25-13 punteggi che risultano ancora più pesanti se si pensa che in campo sono stati schierati come titolari 3 promettenti giovani locali Lorenzo Zazzu palleggiatore Nicola Romano schiacciatore Alessio Bini centrale il prossimo impegno ora questo sabato 3 febbraio a Sassari alle 18 contro la ASD punto volley e con la settimana da poco iniziata va a chiudersi anche l'ostico gennaio delle formazioni targate Gabetti nel campionato Open Wisp di pallacanestro le due squadre del patron Giancarlo Salteri hanno avuto un andamento decisamente differente la prima squadra ha messo a segno due importanti vittorie e cercherà la terza nel recupero contro l'Accademia Basket Olmedo mentre la Gabetti Lab ha centrato sì la prima vittoria della sua storia ma ha subito anche diverse sconfitte nonostante la consapevolezza di un progetto che si sta avviando e che cresce ad ogni partita chiaro che il giorno di ritorno sarà fondamentale per entrambe le squadre per quanto riguarda il basket giocato la Gabetti Lab sarà la prima a scendere in campo questa sera a Senori nell'immediato ritorno contro i campioni in carica della Masters già corsari al Palamanchia la scorsa settimana con il punteggio di 53 a 76 la squadra capitanata da Francesco Costantino sarà invece impegnata eccezionalmente sul parquet del Palacorbia in via Pacinotti nella gara contro Olmedo in programma domani giovedì 31 gennaio con Palla 2 alle 21 il basket chiude l'edizione odiana del nostro telegiornale vi lascio al meteo grazie per essere stati con noi e arrivederci grazie a tutti